Oggi parleremo del costo della vita qua a Sydney. Il titolo può sembrare controverso perché è una cosa che nessuno direbbe, però adesso voglio spiegarvi perché effettivamente non costa tanto. Vi faccio un esempio. Lavoro in un posto dalle 8 alle 5 di pomeriggio, 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. In una settimana si guadagna 1000 dollari. Pagavo 250 dollari a settimana in ostello, quindi rimangono 650 dollari liberi per il cibo, per trasporti, per lo svago, per qualsiasi cosa.